La situazione del mercato creditizio immobiliare è stata oggetto di valutazione da parte di Pietro Gaspardo. Il direttore commerciale del Banco Popolare BPM ne ha parlato nel corso del congresso nazionale della FIAIP a Verona. Ci sono segnali che indicano che gli spread sottostanti al tasso fisso crescano nel futuro. Fra 18 mesi potrebbe verificarsi questa condizione. Ecco perché gli italiani continuano a spingere molto verso questa soluzione al momento di accendere il mutuo. Ascoltiamolo nell'intervista di Vincenzo Campo. Ora la tendenza non è ancora così chiara. Tutti si aspettano nel medio e lungo periodo e 18 mesi potrebbe essere una buona proxy che di fatto l'IRS che è la base del tasso fisso di fatto continui a crescere. Pertanto certamente potremmo ad assistere. Non è assolutamente detto, certamente detto però è molto probabile che questo avvenga. Da un certo punto di vista certamente questo rappresenta un onnere aggiuntivo chiaramente per la clientela perché compra danaro a prezzo più alto ma evidentemente segue anche un'evoluzione di contingenza di mercato e di conseguenza di produzione di ricchezza che dovrebbe a livello sistemico aiutare sostanzialmente a produrre più ricchezza e di conseguenza ad aumentare la capacità di spesa. Perché oggi il 75% e il 70% dei mutui vengono fatti a tasso fisso prediligendo sostanzialmente la certezza dell'impegno per un impegno così lungo come il mutuo rispetto al tasso variabile dove tuttora abbiamo un gap di tasso estremamente interessante. Vedremo il prossimo anno c'è un evento macroeconomico importante, vedremo cosa succederà con la fine del TLTRO, non dovrebbero esserci particolari scossoni perché di fatto la banca centrale certamente piloterà questo evento però è un evento certo quello che con il prossimo anno il riacquisto da parte della banca centrale non ci sarà più e di conseguenza di fatto il mercato dovrà tornare ad essere autonomo nella creazione e distribuzione della liquidità. Pertanto questo è un elemento di novità che potrà causare sostanzialmente un rialzo dei tassi. Parlando invece del vostro gruppo bancario e delle strategie di sviluppo, voi in qualche modo avete un rapporto assai consolidato con varie reti terze, questo rapporto sarà sempre più strategico nel futuro? E rimane strategico nella misura in cui la qualità è il denominatore comune, cioè una delle cose distintive che ha caratterizzato Auxilia e FIIP è la serietà sostanzialmente della qualità dell'erogato trasmesso. Sì, siamo assolutamente interessati, crediamo ancora nella professionalità specifica della mediazione creditizia anche perché la normativa della 141 ha dato molto ordine a riguardo e ancora di più ne darà, pertanto Auxilia e FIIP ha preso la strada giusta, specializzazione a riguardo significa serietà professionalità e di conseguenza significa anche un prodotto che viene trasmesso alle banche come mutuo ipotecario di qualità dal punto di vista del merito creditizio.